Sì, scusami, ritorno in cuffia, mi dicevi? È stata una partita molto dura, soprattutto all'inizio, siamo andati di svantaggio, ma io ce l'ho soprattutto con Sinisa Gioistudio perché non ci sono piaciute le parole della scorsa settimana. Sinisa è una persona corretta, ma con noi ha sbagliato. Lo volevo dire, la squadra è molto arrabbiata con lui e faremo di tutto per cambiare la sua opinione. Ha fatto quello che doveva fare e noi siamo un po' contro la stampa perché quella frase a noi ci ha ferito, Mijalovic ha sbagliato e lo volevamo dire, io sono il capitano, secondo me è importante che le cose vengono dette in faccia e non in televisione. Volevo salutare intanto Ilaria in studio, ciao Ilaria, auguri per la nascita e basta, scusami ma siamo un attimo disturbati, abbiamo il charter, scusami, ciao.